Quando abbiamo qualcuno al nostro fianco, ci sentiamo pronti ad affrontare i cambiamenti. Papà, guarda che brave! Sì, sì, amore, un attimo, guarda. Pronti a buttarci in nuove avventure. Aspetta, aspetta! A tornare sui nostri passi. Ci sentiamo pronti a prenderci cura di noi. Pronto? Il futuro ci aspetta. Facciamoci trovare pronti. Con Active Benessere di Cattolica Assicurazioni, la polizza di ultima generazione, completa e personalizzata, per migliorare e proteggere la tua salute e quella della tua famiglia. Chiedi agli agenti Cattolica. Cattolica Assicurazioni, pronti alla vita. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su cattolica.it.